computer gross tra i distributori primari di netapp su un canale sempre in evoluzione su un canale in completa crescita e trasformazione tecnologie che si rinnovano tecnologie che vanno in un mondo sempre più volto al al mondo flash al mondo cloud dove insieme nostri partner affrontiamo queste sfide tecnologiche in particolare sviluppando insieme al vendor nuovi progetti nuove tecnologie con il con i partner su molteplici versanti tecnologici praticamente mettiamo a disposizione del canale e del vendor una struttura di 40 ingegneri sono persone tecniche molto specializzate che aiutano alla realizzazione fino alla delivery del progetto oggi a questa partner academy 2018 netapp siamo presenti con questa nuova struttura collaboration value next alla nostra rappresentanza sulla sull'evento proprio per far riconoscere questa nuova strategia computer grossa a supporto del canale e a supporto del nuovo business